Un saluto dal Tg della mobilità in centro, cantieri a via del Tritone e ancora per oggi sul lungo Tevere Aventino. Deviazioni bus, tutti i dettagli sono su romamobilità.it. Nel pomeriggio dalle 17.30 circa, cerimonia commemorativa con corteo in zona Montesacro, Valmelaina, Tuffello. Sul fronte della viabilità saranno possibili temporanee chiusure e deviazioni bus. Infine, ancora per oggi, lavori notturni su viale Trastevere, il tram 8 dunque questa sera dalle 20 circa sarà sostituito da bus.